bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi nel video di oggi si parla di roba veramente veramente importante parleremo del nuovo pass battaglia della stagione 5 con le prime immagini ufficiali che sono state trovate parleremo anche senza ovviamente farvi vedere nessuna immagine dell'evento del galactus cosa potrebbe succedere secondo le ultime supposizioni quindi potrebbe anche non essere così e vedremo davvero un bel tuffo nel futuro per quello che riguarda fortnite prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi una cosa abbastanza tranquilla annunciano i 100 tv 100 tvs una novità 100 tv6 fortnite creative challenge get a chance to secure item for their exclusive merch drop praticamente ragazzi c'è una collaborazione con uno dei team e sport più importanti al mondo i 100 tvs appunto che hanno visto nelle loro fila streamer famosissimi giocatori famosissimi hanno fatto appunto questa nuova collaborazione in modalità creativa con fortnite non esiste purtroppo un articolo in italiano quindi andiamo a leggere alcune parti di quello in inglese e come capite ragazzi con questa collaborazione la possibilità di portarvi a casa un oggetto marcato i 100 tvs è concreta 100 tvs hanno annunciato il nostro il loro nuovo gem apparel quindi la loro nuova linea di vestiti comunque credo di oggetti per la persona tu hai la possibilità per assicurarti assicurarti un oggetto partecipando alla 100 tv6 fortnite creative challenge come si fa numero uno salta nella modalità cioè entra in modalità creativa ed esplora la mappa dei 100 tvs fai uno screenshot oppure fai un breve video del tuo personaggio preferito di fortnite dentro la loro modalità condividi lo screenshot oppure il video sui social taggando ovviamente chiocciolina i 100 tvs e chiocciolina fn create su twitter stai attento di aver incluso e l'hashtag 100 t creative nella tua nel tuo post invia tutto entro il primo dicembre quindi ragazzi utilizzate la vostra skin preferita trovate una cosa carina che si può fare un balletto oppure una 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 posa un qualsiasi cosa portatelo su twitter taggate quello che vi ho appena detto e potete trovare la possibilità di vincere un oggetto marcato 100 tvs ma andiamo avanti con il prossimo argomento dove qua la roba comincia a farsi realmente rovente quindi attenzione ragazzi spoiler 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 sbam mamma mia signori arriva un'immagine ufficiale di quello che sarà il background nella season 5 dei nuovi pass battaglia qua ci sarebbe da aprire un mondo non so se ho tempo di aprirlo quindi analizziamo le cose più importanti innanzitutto ragazzi c'è il baby yoda dietro alla skin del del soldato quello che state vedendo proprio sotto di me il baby yoda lo vedete là in basso non vi preoccupate che riusciamo a ritornare su tutte le skin quindi già una curiosità la parte più importante di questa immagine la più incredibile di questa immagine ragazzi oltre ad essere la skin che sembra una variante del bombarolo lucente ma in realtà ha un altro nome dopo la andiamo a vedere che non me lo ricordo a memoria è il backpack ragazzi quel backpack lì diciamo che la dice abbastanza abbastanza lunga come vedete è la mappa di fortnite squarciata a metà con dentro la lava ora non è che per caso non è che per caso all'evento qualcosa va storto e il nostro galactus alla meglio ora io non lo so però cavolo questa immagine diciamo che abbastanza esplicativa ed è veramente incredibile ma ci saranno anche delle novità per quanto riguarda il nuovo pass battaglia perché arriva anche una possibilità di acquistare un pass battaglia speciale per 11 dollari al mese il miglior modo per massimizzare la tua esperienza su fortnite queste sono le descrizioni che vengono fatte sui pass battaglia entra nella crew di fortnite acquistando il mensile per solo 11 dollari e 99 e sotto c'è un'altra un'altra descrizione che dice la miglior strada per massimizzare la tua esperienza su fortnite sottoscriviti per 11 dollari e 99 al mese iniziando dal 2 dicembre questo non vuole assolutamente dire che fortnite diventa un gioco a pagamento no questa è la possibilità extra di ottenere esperienza in più 1000 vbucks al mese dicevano perché ne avevamo già parlato e probabilmente degli oggetti extra per questo abbonamento che sarà di 11 dollari e 99 quindi circa 12 euro al mese questo deve essere il background ragazzi di ciò che verrà sbloccato in questa season con questo nuovo abbonamento e abbiamo anche un video davvero molto molto chiaro e come vedete ogni mese tu otterrai un pack 1000 vbucks e il battle pass plus ragazzi quindi è davvero chiarissimo quello che dobbiamo aspettarci se vogliamo possiamo appunto ottenere questo nuovo battle pass un piccolo briefing otterrai ogni mese un outfit esclusivo ogni mese 1000 vbucks e avrai sempre ovviamente il pass battaglia e costerà appunto 11 e 99 quindi in realtà non è proprio così fuori dal mondo nel senso con 1000 vbucks dentro al mese alla fine ci recuperi sempre quanto hai speso ci può anche stare come idea ci può anche stare ovviamente si può cancellare come dice questa immagine ogni volta la sottoscrizione a questo battle pass premium la fortnite crew e rifarla comunque se decidiamo in futuro di di ricominciarla ultima immagine ragazzi davvero davvero incredibile sbada bam la vedete proprio qua questa ragazzi sembrerebbe essere l'icona ufficiale la miniatura ufficiale di fortnite per quando si accederà al gioco direttamente dal launcher come vedete a sinistra lì c'è la ragazza che è quella che in realtà farà parte del battle pass abbiamo davanti il cavaliere che potrebbe richiamare qualcosa di star wars mentre sulla destra una skin completamente nuova che è un mix tra un pistolero e una tovaglia a quadretti insomma ragazzi stanno uscendo delle cose davvero incredibili questo video mamma mia ha spiegato davvero tanto sulla season 5 io mi raccomando vi dico di lasciare un bel pollicione in su ragazzi lasciate anche un commentino se volete cerchiamo di mandarlo nei consigliati ringrazio tutti per averlo guardato e noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao